Da consulente del lavoro, essendo giovane e dalla poca esperienza che ho, ho capito che molte imprese sono poco informate sui possibili incentivi che si possono avere nella gestione del personale. Essendo poco informate queste imprese tendono a non assumere, addirittura ancora peggio rischiano con un lavoratore al nero. La mia idea di aprire questo sportello qui nel Vallo di Diano era quella di fare uno sportello informativo, prima per l'azienda e informarle per tutte le possibili agevolazioni contributive e quindi abbattere i costi del lavoro. E poi vuole essere uno sportello rivolto soprattutto ai giovani ma anche ai meno giovani come uno sportello orientativo al lavoro, infatti molti giovani già si sono rivolti a me per iscriversi alla cosiddetta garanzia giovani che è partita da poco la seconda fase, orienta i ragazzi anche a fare i curriculum, nella redazione dei curriculum. Questo sportello in convenzione con la Time Vision, società leader nel settore della formazione, della consulenza e lavoro, in convenzione con il CAFUG, il patronato Enac di Sassano, vuole proprio creare uno sportello informativo per tutte quelle aziende e quei lavoratori in cerca di lavoro. È un'occasione da sfruttare perché penso nel Vallo di Diano non ci sono sportelli del genere e quindi sfruttare al massimo quest'occasione per farsi conoscere, inviare curriculum, sfruttare tutte le possibili agevolazioni possibili, la formazione, per esempio molte aziende sottovalutano la questione della sicurezza sul lavoro, noi facciamo anche questi servizi, facciamo consulenza del lavoro, insomma invito tutti, ma lavoratori in generale, a venire anche presso i nostri sportelli, il nostro sportello nuovo, anche solo a titolo informativo e orientativo. C'è da dire, non è che manca l'informazione perché i diversi consulenti del lavoro, i professionisti del nostro territorio informano e chiaro è che questa forma di informazione generale soprattutto è ottimale per quelli che sono i giovani. È un fattore positivo, mi piace che il dottore Russo stamattina abbia preso questa iniziativa ed è un elemento fondamentale per la crescita del nostro territorio. Non si parlava poc'anzi proprio della formazione dei giovani, questo è un altro tassello che può avvicinare nel mondo imprenditoriale a far sì che vengano formate quelle figure che poi immediatamente dopo il ciclo scolastico possono essere inserite nel campo del lavoro. Cose come queste andrebbero potenziate sempre di più in un momento in cui il livello occupazionale sta scemando nel nostro territorio e dove ci sono tante intelligenze che dovremmo farle rimanere qua da noi, tanta forza lavoro che potrebbe rimanere da noi e tra le volte sono costretti ad andare via. È un quick lavoro point ideato qui a Sassano per essere un punto di riferimento sul territorio grazie al CAF del Consulente del Lavoro Russo per essere più vicini a quelli che sono sia i giovani di questo territorio che gli imprenditori sia ai consulenti. Perché abbiamo tutti lo stesso dovere, quello di lavorare affinché le imprese abbiano degli sgravidi, attivino le politiche attive e che i giovani riescano a trovare la giusta collocazione, i giovani oppure chi ha perso il lavoro, la giusta collocazione all'interno del mondo del lavoro. Fare questo in collaborazione con un CAF molto importante del territorio, fare questo con un'agenzia del lavoro come la nostra Time Vision Scarle che ha sede a Castellammare a Napoli e prossimamente a Milano è un dovere per noi. Quindi avere la possibilità di avvicinarci agli imprenditori del territorio rispecchia quello che è la mission aziendale. Siamo qui oggi per spiegare quali sono i punti salienti, quindi sgravi contributivi per le aziende, politiche attive del lavoro, fondi interprofessionali, ricerche e selezione, matching tra candidati e aziende. Quindi penso che sia un'iniziativa importante che attiviamo oggi. Oggi attraverso i feedback che abbiamo attraverso i nostri partner e le aziende che noi seguiamo riscontriamo proprio una difficoltà da parte delle aziende stesse nel trovare, nell'individuare quei profili giusti per le manzioni richieste. Stesso vale per i ragazzi stessi che spesso tendono a fare delle iscrizioni presso delle aziende, a partecipare a degli avvisi di richieste di lavoro, senza essere pienamente a conoscenza di quelle che sono le reali esigenze che l'azienda richiede. Quindi il nostro supporto con la ricerca e selezione, con un job profile e una struttura adeguata di professionisti che si occupa di individuare soggetti non solo per le manzioni, per le esperienze professionali, ma anche per le ambizioni che loro vogliono, rappresenta uno strumento fondamentale che è associato insieme allo sviluppo delle politiche attive, che è un elemento fondamentale per incrementare lo sviluppo occupazionale e un'arma per noi fondamentale per dare supporto ai giovani e alle aziende stesse. Noi cerchiamo di fare il matching, l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro attraverso una sezione che si occupa proprio di ricerca e selezione del personale. Noi abbiamo un database di migliaia di curricula di ragazzi in cerca di persone, in cerca di lavoro che noi mettiamo in contatto con le aziende che ricercano. Noi abbiamo anche centinaia di aziende che in questo momento sono alla ricerca di particolari figure nel mondo del lavoro. Quindi organizziamo anche degli eventi, ieri c'è stato un evento dedicato al turismo in cui c'è stato proprio l'incontro tra i candidati e le aziende alla ricerca di particolari figure nel mondo del lavoro. Quindi il nostro obiettivo è proprio questo, come agenzia per il lavoro, è creare l'incontro e il matching tra la domanda e l'offerta. Le faccio una domanda brevemente. Mettete in relazione anche le scuole, cioè quando i ragazzi escono dalle scuole solitamente effettuano degli studi specifici, quindi insomma voi andate a cercare delle figure anche lì nelle scuole? Sì, noi organizziamo anche degli eventi all'interno proprio delle scuole di orientamento e di preparazione degli studenti alla gestione, proprio della gestione del rapporto con l'azienda. Quindi spieghiamo come si compila un curriculum, come si affronta un incontro e una selezione presso un'azienda. Diamo dei consigli su come gestire la selezione e questo aiuta tantissimi ragazzi successivamente a poter affrontare il mondo del lavoro, a poter mandare il curriculum giusto presso l'azienda che ricerca proprio quella figura. Grazie